Buon pomeriggio a tutti, sono Francesca Lopalco e vi do il benvenuto a nome della ULM Communication School a questo nuovo ciclo di webinar dedicati ai Master ULM 21-22. Oggi vi presentiamo il Master Executive in Social Media Marketing e in Digital Communication. A raccontarlo per noi ci sono il prof Guido Di Fraia e la dottoressa Alessandra Massarelli. Prima di cominciare vi devo chiedere di mutare i vostri microfoni e spegnere le webcam. Al termine della presentazione ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Siete invitati a scriverle nella chat che potete aprire dalla barra di funzione e noi cercheremo di leggerle e rispondere a tutti. Ora la parola ai relatori. Grazie Francesca, grazie mille. Grazie Francesca. Buonasera a tutti, sì io sono Guido Di Fraia, sono responsabile scientifico del Master e con noi abbiamo Alessandra Massarelli che è la responsabile didattica, la coordinatrice didattica, quindi insomma quella che effettivamente poi gestisce insieme a me i contenuti, i rapporti con i docenti e insomma è quella che davvero fa funzionare il tutto. Allora io direi che abbiamo un po' di tempo Alessandra per raccontarlo, però come ci dicevamo forse vale la pena di come dire di dare più spazio alle domande che no che non alle cose che diciamo noi. Per cui magari facciamo un po' una come dire una carrellata veloce su quelle che noi riteniamo essere insomma le caratteristiche distintive di questo prodotto formativo. Poi magari tu ci aiuti insomma noi insieme raccontiamo anche gli aspetti un pochino più 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 strutturali insomma di come funzionerà effettivamente la didattica post pandemia eccetera e poi magari passiamo un po' di domande no. Allora intanto immagino insomma che se siete qua e abbiate già avuto modo insomma di informarvi o di vedere questo prodotto formativo che è o storico no possiamo dire Alessandra cioè ormai è da una parte uno dei cavalli di battaglia. Edizione. Ok quindi è storico da un punto di vista proprio di come dire di di edizioni con cui di svolgimento ma è storico mi viene da pensare anche perché quando l'abbiamo lanciato Alessandra era molto tempo fa e come dire non solo in termini di anni no ma in termini di che cosa è successo nel frattempo no insomma 13 anni fa 14 anni fa parlare di social media era insomma devo dire abbastanza pionieristico no così come lo stesso termine di social media marketing era davvero molto innovativo e adesso appunto in questi in questi anni come dire i mezzi si sono evoluti no la tecnologia è avanzata e questo è il motivo per cui in ogni caso insomma no il prodotto formativo ha avuto una sua originalità all'inizio e no mi permetto di dire che continua ad avere questa originalità perché lo rinnoviamo costantemente e lo rinnoviamo costantemente no cercando di assecondare per certi aspetti anche di anticipare no le le innovazioni tecnologiche i trend socioculturali insomma no per per cercare di renderlo tutti gli anni no pionieristico come era 14 anni fa quando l'abbiamo progettato no questo è un po la mission che ci siamo dati e il lavoro che facciamo insomma alessandra io proprio per trovare tutti gli anni no le no le le aggiustamenti necessari per correggere il tiro per integrare insomma no contenuti che che gli anni precedenti non c'erano e quindi da per fare solamente un esempio come dire dai social media che andiamo a trattare no che tre anni fa tiktok che non era in qualche modo non era esploso e adesso invece già contenuto didattico già nel percorso attualmente in corso no per non parlare invece di aspetti in qualche modo più strutturali della del marketing digitale che sono quelli per esempio legati tutta la marketing automation che sono no che sono moduli che sono stati inseriti già da alcuni anni e invece da tutto quello che l'intelligenza artificiale stanno sta portando alla al marketing della comunicazione aziendale che sono appunto temi su cui appunto su cui insomma adessandra io stiamo lavorando stiamo studiando anche con un laboratorio no dell'intelligenza artificiale your my lab e inevitabilmente insomma questi contenuti sono diventati anche contenuti del percorso formativo quindi ci sono no dei dei moduli aggiuntivi proprio finalizzati a raccontare come l'intelligenza artificiale sta modificando e come può essere utilizzata no in maniera vantaggiosa per generare valore in tutte le fasi del funnel del marketing insomma di conversione e quindi storicità no insieme a pionierismo e questo è un posizionamento che cerchiamo appunto di mantenere il secondo punto che mi sembra corretto sottolineare è l'eccellenza dei no dei dei colleghi che sono presenti nel master no intanto come sapete è un master fatto tutto da professionisti l'unico come dire non professionista che però non mi piace raccontarla così diciamo che l'unico accademico sono io nel senso che tutti gli altri docenti sono appunto tutte persone che vengano dal mondo del lavoro e quindi sono persone che ogni giorno si confrontano no con le problematiche legate appunto alla no alla gestione di campagna la progettazione di strategie con clienti reali e questo credo che sia no uno dei valori aggiunti del prodotto formativo che come dire un executive e quindi è di taglio no molto operativo molto pratico ma soprattutto è fatto appunto da persone che no praticamente no lavorano ogni giorno su questi su questi temi e quindi non è una formazione ripeto accademica è una formazione ripeto executive e molto agganciata ripeto alla alla attualità e l'evoluzione insomma del mercato l'altro elemento credo che sia vincente è il tema della del networking che si viene a generare no il tema della relazione e quindi un networking che che da una parte vede appunto la nole la possibilità che insomma chi partecipa al percorso ha di entrare relazione proprio con questi professionisti con le aziende di questi professionisti e quindi no sia per come dire per ricevere spunti come dicevamo prima ma anche per no per trovare opportunità per ricevere consigli no per e per trovare opportunità di lavoro insomma no che poi questo quello quello che ci interessa ma l'altro aspetto di networking che in realtà è un per certi aspetti è un side benefit no del percorso formativo è un side benefit peraltro noi non siamo nemmeno responsabili ma ma funziona così è il fatto che i ragazzi avendo i ragazzi insomma le persone che frequentano il percorso avendo la possibilità di lavorare insieme su project molto articolati su esercitazioni eccetera poi come dire diventano no prima amici e poi colleghi e poi colleghi amici e poi insomma no si genera veramente un clima molto molto bello di insomma di condivisione di un'esperienza di un'esperienza no che è che formativa ma anche un'esperienza umana che dura tanti mesi e che no che che preoccupa perché chiaramente c'è un investimento importante da fare che come dire che stressa perché ci sono poi noi compiti da svolgere i project da portare avanti ma che poi insomma alla fine da grande soddisfazione una volta una volta finita e anche nel percorso per cui insomma questo per dire che ripeto senza che questo sia un nostro nostro insomma un nostro merito però c'è tutte le no tutti le persone che si iscrivono quando arrivano in fondo dicono caspita è già finito ci mancherà tantissimo proprio no anche per l'esperienza formativa questo anche adesso che abbiamo fatto le cose online no cioè chiaro che tutto questo funziona meglio quando siamo in aula quando no poi le persone iniziano a portare che ne so magari la focaccia genovese piuttosto che no i cioccolatini no nel senso che ci sono momenti di convivialità chiaramente in presenza sono sono certamente molto belli però insomma devo dire che questo spirito no si è alessandra si è generato anche adesso no nel percorso assolutamente sì anzi con con estremo piacere abbiamo visto che sono riusciti comunque a organizzarsi a creare chat a condividere a vedersi qualora e quando fosse possibile quelle volte che poi abbiamo fatto le lezioni in presenza visto che era consentito era come se poi fossero stati sempre in aula quindi devo dire che che si è creato questo bel clima tra l'altro qua mi introduco con una tematica per cui appunto il master social quest'anno è stata la prima edizione di una nuovo format che prevedeva una versione blended quindi una parte delle lezioni online e una parte delle lezioni in presenza è una versione invece completamente online quindi senza la parte in presenza ma completamente online e e questa 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 opzione questa questa versione nuovo format del social media si replicherà anche per la quattordicesima edizione e devo dire che si è creato proprio un'integrazione tra le due le le due realtà le due versioni per cui noi chiaramente quando avevamo progettato non avevamo in mente come poi le due fazioni chiamiamole si sarebbero relazionate perché chiaramente alcuni avevano scelto di frequentare solo la parte online perché per motivi lavorativi o comunque per 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 perché ritengono che sia più più utile per loro a fare solo quella parte e in realtà si è creato un bel clima è un bel bello scambio tra chi invece faceva l'altro percorso anche perché no alessandra perché in realtà ci sono poi dei momenti di contatto che sono dati in particolare no dal dal contest no quindi forse possiamo introdurre il noi anche questo concetto il premio di studio di sì sì assolutamente sì sì ogni edizione quest'anno anche quest'anno nonostante appunto tutte le difficoltà e anche l'anno scorso abbiamo mantenuto chiaramente fede alla nostra questa questa nostra insomma punto di valore permettiamo a una realtà di di portare un premio di studio eh un brief da da far svolgere alla classe a chi della della classe eh fosse interessato insomma a parteciparvi eh per sviluppare eh o una strategia di marketing piuttosto che eh un unicommerce insomma eh a seconda di delle esigenze del dell'azienda che 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 ce lo porta e a fronte poi di un premio di studio cioè quindi di un di una vincita di un premio di studio che equivale tendenzialmente a una borsa di studio completa che viene data ex post quindi al termine poi del percorso formativo chiaramente ehm chi è interessato e questa non è una di quelle cose obbligatorie eh può parteciparvi eh quest'anno ad esempio abbiamo un bellissimo premio di studio parteciperanno otto gruppi si sono formati otto gruppi che corrispondono più o meno a 32 persone eh e eh porteranno avanti questo progetto e al termine verrà decretato il progetto vincitore ecco certo e poi Alessandra e poi un'altra cosa che abbiamo fatto noi abbiamo fatto anche un po' una riflessione sulla qualità dei lavori no che sono usciti cioè tanto insomma negli anni precedenti quando le lezioni erano tutte in presenza tanto adesso che le lezioni sono state no anche online che no e eh sì è sempre diciamo una scoperta trovarci di fronte alla classe perché come voi capirete ehm voi adesso siete qua ad ascoltare la nostra presentazione poi chi di voi eh sarà più interessato o vorrà chiaramente procedere ehm procederà con la preiscrizione dopodiché io colloquierò queste persone e eh capirò qual è il grado di motivazione che li spinge insomma a frequentare questo tipo di percorso se è il percorso che fa per loro eh oppure no e consiglierò eh una volta che eh ritenuti appunto positivi eh non al covid chiaramente ma al colloquio di selezione ormai non si può più dire positivo eh si può procedere con con l'iscrizione al al master e e e a quel punto eh ci troviamo davanti una classe che è composta da n persone che non conosciamo e che quindi non sappiamo bene come poi si andranno a relazionare come saranno e ogni anno è una scoperta perché quest'anno ad esempio abbiamo una classe che apparentemente durante le lezioni è molto ehm morigerata molto a posto magari interviene anche un poco e quindi sembra quasi eh che non non siano no così attivi e attenti e in realtà i lavori che ci stanno restituendo sono molto 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 buoni di elevati sì siamo molto contenti proprio quello quindi insomma questo per dire che no cioè che che anche il modello didattico la distanza la presenza eccetera poi non non incidono fino in fondo no sulla qualità dell'apprendimento perché ripeto anche per la insomma per la distanza abbiamo no abbiamo costruito dei modelli eh insomma di 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 lezione e di possibilità insomma di lavorare concretamente sulle cose che danno un po' a tutti la possibilità veramente di di apprendere di mettere in pratica di portarsi dietro una cosa che forse vale la pena di precisare da subito senza come dire insomma in qualche modo no che che è una cosa che ci viene spesso chiesta Alessandra è il tema no anche delle dell'età no cioè del fatto sì ma ma insomma le classi sono cioè no quale allora intanto ricordiamo a tutti perché a volte no non è chiarissimo cioè è un master executive executive vuol dire che eh come dire può essere frequentato no indipendentemente dal fatto che uno abbia un titolo di studio una laurea di primo di secondo livello eccetera no cioè quindi ci si può iscrivere indipendentemente dal titolo di studio ehm perché è stato pensato anche appunto per le persone che lavorano e questo ripeto e questo fa sì che all'interno del percorso ci sia anche un'eterogeneità no delle delle persone che si iscrivono eh che insomma devo dire che questi ultimi anni sono no prevalentemente più giovani mi sembra no giovani non vuol dire insomma ehm hanno finito il liceo eh assolutamente però insomma no ehm però ripeto abbiamo avuto aule ma 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 insomma anche quest'anno cioè dove magari ci sono anche le persone di 50 anni insomma no e quindi anche di più no e e questo ci siamo no all'inizio avevamo un po' paura rispetto a la domanda che ci viene fatta tendenzialmente è più dalle persone chiaramente eh di 50 o di 60 anni ma sono tutti giovani ma io come mi vado a integrare e inserire noi abbiamo sempre detto che una delle caratteristiche principali di questo percorso non una delle caratteristiche principali ma comunque è una delle sue peculiarità è il fatto di creare delle aule eterogene eh e quindi eh di diversa composizione che però eh sono un punto di 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 vantaggio in realtà e non un punto di svantaggio perché proprio dalla contaminazione delle eh diverse eh livelli di di cultura di età di eh di conoscenze di di lavoro di background di esperienze che si generano eh continuamente eh delle 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 scintille positive ecco eh certo assolutamente sì e proprio in una sorta no di di costruzione anche collettiva no del del della insomma dell'esperienza formativa e dei contenuti formativi no per cui ripeto può sembrare strano ma il fatto che ci sia magari un gruppo no che lavora insieme di di cinque persone di cui magari tre sono no magari ai neolaureati e poi ce ne sono uno due che una è la responsabile marketing di una grande azienda e l'altro magari un libro professionista cioè in realtà mette insieme esperienze per percorsi storie diverse che però si arricchiscano a vicenda e quindi sono veramente delle delle belle esperienze. Alessandra non stiamo dicendo nulla su il eh i contenuti no su cosa andiamo a insegnare non lo stiamo dicendo perché in fondo quello c'è insomma un po' scritto da tutte le parti. No possiamo dire ecco riprendere appunto eh un attimo rapidamente in carrellata il percorso formativo il programma didattico si compone di sette moduli formativi eh come diceva il professore fino a qualche anno fa erano sei poi abbiamo aggiunto appunto il settimo modulo formativo eh su ehm eh i marketing e marketing automation eh perché chiaramente non si può prescindere anche da questa tematica che è in questo momento eh una tematica di cui bisogna insomma iniziare a parlare e trattare ehm e questi moduli formativi sono appunto fondamenti di marketing e società delle reti quindi il primo modulo di inquadramento per chi anche venisse da facoltà o da realtà e in cui il marketing ancora non non si è mai eh trattato. Eh poi si passa a fare marketing con il digitale e con i social media quindi è il modulo un pochino più eh che noi lo chiamiamo quello che è la cassetta degli attrezzi diciamo per poter affrontare tutto il resto del del percorso formativo quindi diamo tutti quei mattoncini che poi composti vanno a creare una strategia digitale e vanno a creare il social media manager a 360 gradi eh poi progettare una strategia di marketing digitale quindi qui ci addentriamo chiaramente nel cuore del del percorso formativo e eh la classe imparerà eh diciamo prevalentemente grazie al professor di Fraia anche che è uno dei docenti di questo modulo eh che che per la maggiore insomma eh affronta questo tema come fare eh una strategia digitale eh poi ascolto intelligence e analytics eh perché non si può prescindere da appunto un ascolto della rete fatta bene per poter eh impostare il proprio lavoro e poi sapere se si sta andando nel modo giusto eh nel nella direzione giusta una volta che lo si è fatto eh poi appunto ai marketing e marketing automation poi content creation e curation quindi è la parte più eh diciamo eh creativa è quella che 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 piace di più perché poi eh ci si può no sbizzarrire nella creazione poi di contenuti di eh di tutto quello che è la la appunto la content creation e curation e poi l'ultimo che è web e social media adv che quindi è quello un po' più spinto marchettaro eh in cui si impara a fare le campagne proprio su facebook sui social eh a spendere un po' di di soldini per vedere se funzionano le proprie campagne. Certo. Questa è una carrellata. Una carrellata ottima Alessandra grazie e però questa mi consente di dire un'altra cosa no? Sì. Che 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 è importante che chi si iscriva a questo corso abbia chiaro eh allora intanto come diceva ci ricordava Alessandra I moduli sono diversi e come vedete non si parla solo di social media marketing anche perché la definizione di social media marketing ripeto è bella come dire ancora attuale per certi aspetti da un punto di vista linguistico evocativo ma da un punto di vista come dire più di 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 no di di prassi eh operativa ehm no ormai il marketing e marketing e quindi cioè l'ambito del social media è il marketing digitale. Direi come direbbe il professore è il marketing al tempo del digitale se mi consente. Direi così anch'io mi sembra una buona definizione ma sarebbe grazie mille per la dotta citazione. Quindi come dire fare marketing al tempo di digitale vuol dire non solo saper usare i social media per fare marketing ma saper usare tutte le leve e quindi tutto il tema no del content come ci ricordavi tu no del content marketing nella marketing automation eh come dire la tutta la parte di adv no fatta attraverso no google ads per cui insomma è una come dire un percorso formativo a 360 gradi sul marketing digitale. Questo è importante da ricordare ma ricordare anche importante ricordare anche il tipo di persone che noi andiamo a formare eh e ripeto per evitare fraintendimenti come dire se uno è interessato a voler diventire io da grande voglio imparare a scrivere contenuti per i social perché so scrivere bene eh non gli dico di non seguire questo master perché certamente impara anche quello e impara quello però come dire l'obiettivo formativo del master è molto più elevato che non inserire inserire impara insegnare alle persone a eh come dire a scrivere sui social perché due cose imparare a scrivere sui social intanto come dire è una cosa che per certi aspetti si impara in tre giorni cioè nel senso che se uno sa scrivere le logiche che stanno dietro la costruzione di contenuti con i so per i social io non voglio banalizzare ma insomma non c'è bisogno di fare un percorso formativo di questo di questo no impegno economico e di durata per impararlo a fare primo punto di riferimento primo punto di riflessione secondo punto di riflessione come dire per fortuna o per sfortuna no il futuro prossimo venturo eh vedrà le figure che si specializzano la costruzione di contenuti eh sempre meno interessanti per il mercato del lavoro perché per fortuna o per sfortuna le macchine quindi l'intelligenza artificiale in particolare sta andando potentemente a eh imparare a svolgere quelle funzioni per cui ripeto ehm no senza deludere chi vuole diventare insomma social media specialist inteso come chi scrive contenuti per per i social anche no no il percorso prefigura forma figure professionali che sappiano parlare meglio di me intanto perché come capite stasera sto un po intaccando però insomma il percorso formativo forma figure professionali in grado di come dire generare progettare strategie di marketing digitale no partendo dai bisogni delle aziende essendo in grado di comprendere quali sono bisogni di comprendere quali sono gli obiettivi e di avere tutte le leve no nella nella propria cassetta degli attrezzi che consente loro appunto di no di progettare tutti i pezzi necessari a costruire ripeto una strategia efficace essendo in grado poi anche eventualmente di gestire le varie cose e quindi di gestire anche la dv su eh google piuttosto che su facebook magari su uno dei pezzetti del percorso ulteriormente ma certo però capito c'ha le conoscenze necessarie per poterci specializzare oppure per essere in grado in qualche modo di gestire chi quella roba magari la fa no con un'espertise più verticale no e quindi no essere in grado di relazionarsi con il seo specialist perché no perché si è capito bene a che cosa serve fare quella roba lì e se hanno no e si sa come integrare quel tipo di specializzazione in una progettazione strategica quindi no e le figure che noi andiamo a formare sono figure evolute eh per questo il percorso formativo è un percorso formativo lungo in termini di ore lungo in termini di no eh perché come direte si fa presto a dire master no nel mondo là fuori di master ce ne sono infiniti ok online online ci sono i guru che insegnano questi contenuti insomma il nostro percorso formativo quest'anno è ancora di quattrocento mi aiuta tre ore di didattica a cui poi c'è bisogno necessariamente di no di riaggiungere tutte le attività che che insomma che chi poi si iscrive farà per i workshop per il no per il premio di studio eccetera quindi insomma l'impegno anche in termini di di ore di insomma di didattica frontale di workshop è naturalmente significativo per la versione blended chiaramente cioè quella sia in presenza che online sono quattrocento tre solo l'online sono duecentocinquantanove perfetto però comunque però in ogni caso Alessandra non è un percorso lungo e impegnativo eh che però ci sentiamo di chiamare davvero master executive laddove ripeto là fuori ci sono percorsi di venti ore che ti dicano no fai il master diventi social media specialist anche no riesce da questo master è pronto chiave in mano per affrontare insomma il ruolo per sé le grandi aziende una domanda Alessandra che ci fanno sempre quindi l'anticipiamo è ma il master prevede degli stage allora il master essendo executive non è obbligatorio e quindi non è previsto dal piano di studio per il conseguimento del titolo eh avere cioè fare insomma uno stage ma proprio per la natura di questo percorso formativo che chiaramente eh forma delle figure molto richieste dalle aziende noi riceviamo molte eh offerte di lavoro che via via nel corso del percorso formativo pubblichiamo sulla community dedicata agli studenti in corso di quel di quell'edizione e poi anche estendiamo a quelli magari delle edizioni precedenti a seconda di che tipo di profilo viene ricercato eh e che possono insomma eh provare a col a fare l'application per poter insomma fare questo tipo di stage chiaramente sono stage curriculari eh qualora vengono attivati all'interno del del della durata del percorso formativo perfetto bene che altro abbiamo no mi sono distratto un attimo perché vedo che c'è insomma una lunga domanda e quindi non so se cominciamo a passare già le domande perché insomma di cose ne abbiamo dette tante ma poi gli aspetti più interessanti vengono sempre dagli stimoli dei no di 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 chi 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 ha interesse per questo percorso quindi direi se se sei d'accordo Alessandra di passare a passare sì sì allora abbiamo una prima domanda ehm anzi più un'affermazione di Gaia che dice che sono felicissima della nuova versione online confermo che non incide sulla resa di apprendimento anzi posso confermarlo avendo fatto il master in retail all'Iurno da remoto ok grazie Gaia eh Giulia e invece appunto c'è ci fa una lunga domanda dice buonasera in merito a questo tema io ho 25 anni e lavoro come content marketing specialist da circa tre anni non mi colloco quindi tra quelle persone neolaureate che eh non hanno ancora avuto un primo approccio lavorativo vero e proprio ma nemmeno tra i marketing manager che devono aggiornarsi sui nuovi trends del digital marketing vorrei però in futuro diventare marketing manager secondo voi questo percorso può fare al caso mio sono interessata soprattutto alla parte di ai marketing automation e adb ehm i restanti moduli li ho già più o meno appresi vorrei essere sicura di scegliere un master che mi possa fornire strumenti nuovi rispetto a quelli che ho già appreso lavorando o che comunque posso velocizzare il mio percorso di carriera vado io vai tu vale come come vuole domanda ricca domanda ricca sì allora ehm inizio a dire io allora una delle oggettivamente una delle delle tipologie no di studenti che che frequentano questo percorso sono proprio spesso le persone che si sono formate sul campo no cioè quelle che ci dicono insomma io lo faccio già questo mestiere addirittura qualcuno dice io ho la mia agenzia cioè quindi no non Giulia non sei la prima anzi è una casistica piuttosto diffusa quella delle persone che ci dicono appunto che sono già nel mondo del lavoro ma che comunque vogliano in qualche modo arricchire la propria esperienza allora con tutta onestà io devo dire che ripeto che non c'è mai stato nessuno che abbia detto a queste cose le sapevo nel senso che assolutamente sì cioè noi rispettiamo sicuramente sarai una grandissima professionista e quindi sicuramente sarai insomma bravissima nel tuo mestiere è certo che ripeto come dici tu se ci sono altri moduli che tu in qualche modo non sono quelli che hai frequentato tipo tutto il tema della dv che naturalmente è un tema molto ampio no perché c'è tutto il social a dv c'è il web a dv eccetera quindi un tema c'è il programmatiche no quindi no oggettivamente è un ambito insomma di approfondimento molto molto rilevante come il tema della marketing automation insomma io sono sicuro che ripeto che sono contenuti che possono che possono servirti da una parte e dall'altra parte insomma secondo me qualcosa di nuovo anche no nell'ambito delle cose di cui ti occupi magari insomma riesce a trovarlo no perché poi dipende tutto da come no da anche c'è le competenze che uno acquisito per arrivare a fare quello che sta facendo oggi no che basi ha avuto e che tipo poi di cultura aziendale ha trovato dove sta lavorando per cui anche su questo abbiamo trovato grandi eterogenità nel passato e quindi di solito le persone trovano beneficio anche insomma sulle cose che che già stavano facendo è bene un'altra domanda ci scrivono sul sito ho visto che decidendo di iscriversi alla parte online si potrebbe anche può integrare con i laboratori in presenza cioè quelli previsti nella parte blended se io quindi decidessi in seguito di voler aggiungere workshop in presenza dovrei procedere al saldo della differenza di costo tra modalità solo online blended sì allora se posso prof questa me la prendo io di domanda allora sostanzialmente la parte in presenza appunto a cui possono accedere a quelli che si iscrivono al blended si tratta di un weekend al mese quindi sono 12 weekend per tutta la durata del percorso perché la per il percorso ricordiamo che dura un anno quindi inizio a gennaio finisce a dicembre e questi weekend sono composti da il venerdì in giornata piena quindi dalle 9 30 alle 18 e 30 e il sabato dalle 9 alle 13 allora il laboratorio si svolge il venerdì dalle 9 30 alle 18 e 30 è un approfondimento più pratico su alcune tematiche che sono state trattate durante la lezione quindi abbiamo per citarne alcuni no il laboratorio di seo il laboratorio di 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 scrittura appunto per i media il laboratorio di su sull'e commerce quindi ecco varie varie sfaccettature che abbiamo affrontato fatte con un taglio più pratico abbiamo deciso e pensato di 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 permettere insomma quelle persone che sono interessate che frequentano l'online di potersi iscrivere ai laboratori singolarmente qualora ne fossero interessati quindi anche a un laboratorio solo non necessariamente a tutti eh chiaramente ha un costo aggiuntivo che va aggiunto alla la quota poi di iscrizione via via che no siccome io sto vedendo anche le domande quindi magari possiamo anticipare qualche risposta al volo insomma quando è che inizia fare quando è che inizia il percorso inizia il 14 di gennaio le lezioni si svolgono nelle modalità classiche di come dire online in presenza gli orari esattamente gli orari delle lezioni sono il mercoledì il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 20 e 30 e poi abbiamo un giorno alla settimana che c'è anche c'è una una volta scusate al mese che c'è anche il sabato dalle 9 alle 13 questo per quanto riguarda l'online sì poi ci chiedono se anche l'anno prossimo ci sarà la modalità blended c'è nelle prossime edizioni fino a questa sicuramente sì e supponiamo anche nelle prossime perché sta andando molto bene e nulla c'è poi ci chiedono se i docenti professionisti si conoscono già c'è lì assolutamente la nostra 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 rosa ne raccontiamo qualcuno ovviamente allora alessio semoli semoli magari lo conoscete già se no insomma link guardatevelo su linkedin così facciamo prima ma insomma già no semoli è autore di come dire di marketing automation primo libro poi autore di fare marketing con la i poi è come dire uno dei insomma degli innovatori di start up più di successo d'italia adesso è il capo responsabile di una di una da onde un venture capital che serve proprio per fare l'accelerazione delle aziende sul tema dell'intelligenza artificiale per insomma per il business e quindi questo no questo è uno poi gianluca diegoli gianluca diegoli chi di noi non conosce gianluca diegoli si occupa di questa roba allora come dire non è vero che se ne occupa perché voglio dire vi consiglio anche di iscriversi alla sua newsletter che che arriva tutti i venerdì puntualmente che inizia insomma l'oggetto è sempre già venerdì è veramente cioè una delle insomma delle newsletter che tra le mille che ricevo che leggo che le uniche c'è una delle poche che leggo davvero perché veramente ricca di insight molto molto interessanti e di riflessioni importanti proprio sul mondo delle del marketing digitale leonardo bellini ardo bellini che come direzio di un'azienda che in questo momento si sta occupando lui insomma lavora nel digitale da sempre questo momento si sta occupando di utilizzo di soluzioni avanzate per fare influencer marketing si affiniti mettersi chiama poi come non citarlo poi nazareno gorni ma poi abbiamo carmelo samperi che è il nostro guru guru hacker quello che sta tutto sui social nazareno gorni che è sì sì o che di mail up e quindi insomma l'email marketing cioè viene raccontato da chi ha inventato l'italia l'email marketing che appunto mail up e nazareno gorni alepoca e bucchini lucchini che insomma per la scrittura dei suoi contenuti è uno dei comunicatori più bravi insomma che io abbia mai conosciuto non ve lo dico così perché sono come dire per pubblicizzarli è un dato di fatto ve lo spiego velocemente siccome il master a 14 anni è chiaro che noi facciamo customer satisfaction di ogni docente ogni volta che fa lezione e quindi evidente che in questi 14 anni come dire abbiamo scremato e abbiamo solamente il fior fiore cioè quello che come dire che non solo sono bravi professionisti ma che hanno danno maggiormente in aula sono in aula e questo è il motivo per cui insomma ci viene anche facile raccontarli così e non abbiamo timore a dire che sono bravi a patrizia conte che si occupa di che ha una società propria che fa programmatic e quindi insomma è una fondatrice di una società di programmatic poi abbiamo diego fulco che è presidente italiano dell'associazione per il diritto digitale è un grande grande professionista su tutta l'area del gdpr e così via e altri tanti altri ma questo qui è una carrellata veloce poi no le elezioni non sono scusa quindi intervengo io perché mi viene l'ansia no le elezioni sono live non sono pilone registrate non ci permetteremo di chiamarci master se avessimo delle lezioni registrate quindi no sono sempre in aula interattive eccetera ok poi ci chiedono sono una studentessa del terzo anno in relazioni pubbliche in ulmo volevo sapere se anche se dovessi laurearmi a marzo 2022 potrei comunque iscrivermi iniziare il percorso con riserva certamente sì non ci sono assolutamente problemi poi essendo anche un master executive non è richiesta appunto la laurea infine anche il per il master dell'anno prossimo rimarrà la modalità solo online quindi no non è solo online comunque c'è la doppia versione quest'anno abbiamo avuto tra l'altro la fortuna appunto che nei momenti di riapertura erano previste le elezioni in presenza e quindi siamo riusciti comunque ancora a non perdere insomma lezioni che erano previste in presenza qualora non ci fosse la possibilità di svolgere quelle elezioni in presenza vengono erogate nella modalità in presenza ma online no però scusami alessandra credo che io decodifico la domanda in un altro modo che è avremo la una modalità totalmente online sì ok quindi se uno si vuole iscrivere totalmente online la possibilità di fare per un percorso dal mento online c'è sì c'è che sia online questo volevo dire poi lezioni in presenza dove si svolgeranno alla iulme siamo a steri ulme quindi a milano allo iulme e questo sì mi rendo conto che per chi viene da fuori possa essere insomma impegnativo e oneroso e abbiamo avuto insomma noi studenti da 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 ovunque d'italia sempre tra quelli che si svegliavano le quattro la mattina per venire da no dal dal da trieste a chi arriva dalla sardegna dalla sicilia con l'aereo il giorno prima insomma è stato sempre un percorso no formativo a cui si sono iscritti un po da ovunque devo dire che la versione splendide no alessandra c'è le trasferte quindi riduce anche la la spesa dal punto di vista appunto proprio meramente economico di trovare l'alloggio e di organizzarsi ha dal suo il lato positivo che chiaramente si crea poi questo network che nei momenti di presenza cioè alla fine delle elezioni quando e se si potrà ancora l'happy hour l'aperitivo e la cena o il lavoro poi a casa di uno dei compagni per portare avanti project work è insomma il must quindi la differenza delle ore tra percorso blended e online si riferiscono ai laboratori al laboratorio il venerdì che è giornata piena e al sabato mattina che si 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 svolge il project work project work è solo per quelli che frequentano il blended questo magari lo diciamo ancora un pochino meglio no alessandra cioè perché dall'inizio dell'anno i ragazzi cioè da proprio da dal secondo modulo sono come dire sono invitati a costituire dei gruppi no dei gruppi di lavoro in realtà insomma poi le aiutiamo noi le costruiamo noi e questi gruppi di lavoro adottano o inventano una no una realtà aziendale adottano vuol dire che possono dire noi vogliamo lavorare sull'azienda di mio zio mio cugino la mia quella di mio nonno quello che vogliono no e oppure possono dire no noi non abbiamo nessuno oppure ci piace inventare una no una start up e quindi indipendentemente dal fatto che sia un'azienda già esistente che sia una start up e questo io ciascun gruppo porta avanti tutta la durata del master no un workshop in cui lavora a costruire una strategia di digital marketing per la realtà che hanno appunto adottato inventato e e con una logica anche un po competitiva nel senso che poi diamo no dei punteggi al via via le presentazioni e poi alla fine non sappiamo un vincitore esatto e questo ci serve chiaramente per per far esercitare per far mettere le mani in pasta allora questa cosa come ci ricordava alessandra era è possibile solo per chi sta facendo la versione blended e chi fa l'online questa questo tipo di attività non 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 è inclusa insomma non lo fa anche le lezioni in presenza saranno in orario serale no no come abbiamo detto le lezioni in presenza sono solamente venerdì tutto il giorno e il sabato mattina una volta al mese corretto a livello di placement e offerte di lavoro a fine corso mi riferisco soprattutto per neola reati le percentuali sono positive allora da questo punto di vista no forse una cosa che possiamo dire anche che gli studenti immatricolati al master sono di fatto studenti a tutti gli effetti ulm per cui possono contare no sulla sull'ufficio stage placement sul full servizio stage placement carer service relazioni con le imprese che appunto è specializzato nell'aiutare insomma le persone a no a costruire anche la propria presentazione no al mondo delle imprese e le aiuta un punto nell'orientamento sia dello stage che del lavoro e performance sono suppositive come vi diceva prima alessandra in realtà abbiamo di solito abbiamo più richieste di quanto non riusciamo a soddisfare cioè più richieste di azienda rispetto a posizioni di quanto poi noi via via non riusciamo a soddisfare quindi le cose funzionano bene insomma nella versione totalmente online non sono previste esercitazioni pratiche no certo che si si fa comunque anche attività pratica senza ombra di dubbio la versione laboratoriale è proprio un approfondimento ulteriore ma comunque anche nella versione online sono previste delle esercitazioni e le esercitazioni anche nell'online insomma poi gruppi vengono di suddivisi no anche lì c'è dividiamo insomma anche i partecipanti in gruppi che con generiamo delle stanze ad hoc dentro teams e anche lì poi abbiamo la possibilità alessandra io diciamo di passare tra i banchi no c'è realtà entriamo nei vari gruppi e poi le supportiamo e le aiutiamo anche nelle loro attività pratiche Gaia ci chiede quindi per chi fa la versione online non è previsto il premio di studio sì il premio di studio è aperto sia ai blended che a online perché sono due cose diverse no da una parte abbiamo il project work che è quello che dicevo prima è un filo conduttore è un esercizio in più che fanno i blended premio di studio per tutti chiunque voglia partecipare si può iscrivere e lavorarci le lezioni online sono ogni settimana sì poi c'è una scadenza per l'iscrizione sì c'è la scadenza che il 30 di settembre ma ricordiamo che le iscrizioni sono già aperte e bisogna effettuare l'iscrizione tramite il nostro servizio di segreteria online e diciamo che essendo un master anche molto richiesto vi consigliamo di iscrivervi quanto prima ci sono dei limiti al numero di persone che si possono iscrivere al momento per la versione blended ma eventualmente sì per la versione online no esatto se scelgo la versione sono online ma decido di iscrivermi anche a qualche laboratorio in presenza posso fare solo il venerdì o anche il project work di sabato mattina il venerdì perché il project work capisci non avresti cose da su cui lavorare perché lì sono già gruppi costituiti che lavorano sulle sulla startup e sull'azienda che hanno no che hanno adottato esatto esatto poi ci chiedono appunto la sempre la disponibilità dei posti come dicevamo prima appunto per la versione online non però per la versione blended si dipende dalla appunto capacità dell'aula e dalla situazione pandemica sperando che migliori sì però per dare un ordine di grandezza insomma quest'anno no sono stati nella versione blended quindi abbiamo 30 iscritti bene se non ci sono altre domande vi ricordiamo che potete comunque continuare a ecco un'altra domanda quindi la versione online mercoledì giovedì venerdì dalle 18 alle 20 e 30 corretto? sì e un sabato al mese anche dalle 9 alle 13 bene direi sì vogliamo dare i contatti magari facciamo vedere solamente la chart dei contatti che avevo detto prima che può essere utile sì la chart dei contatti deve essere quella di scuola di comunicazione sì sì adesso è la la mostriamo in modo tale che se dovessero esserci ulteriori domande potete scriverci eccoci ecco questi sono i nostri contatti bene grazie a tutti per aver partecipato a questo webinar e speriamo di rivederci a lezione grazie Francesca grazie professore grazie a tutti e buona sera grazie a voi grazie Alessandra e Francesca grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato buona serata speriamo di vederli presto sì esatto ma dal vivo però non così grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie.